Ma bella a tutti ragazzi e ragazzi bentornati con la mia review su l'attaccante più forte della serie A E ovvero il Principe Emilito Il Principe Emilito è una carta che si presenta con un 3-4 Diciamo che quest'anno le skill non contano molto quindi il piede debole è un'ottima cosa Da come potete vedere lo sto usando in Weekend League dove sono due vittorie a zero E mi ha fatto una partita già a due gol Ragazzi sì questa carta si vede che non è una carta utilizzabilissima Però devo essere sincero se ti date un'opportunità il Principe Emilito non vi farà pentire Anche se sì l'agilità, l'equilibrio e tutto quello che dite voi Ma quest'anno secondo me non serve molto questa agilità e equilibrio Voi direte Nino come lo stai usando questo Principe Emilito? Qui nella mia serie A fantastica ragazzi Veramente è un qualcosa di immaginabile questa squadra Ed è tanta tanta roba Quindi Emilito è consigliabile Voto 8 E se questo video vi è piaciuto mi ricordo di lasciare un like, un commento Un bacione Ciao boys